Bella a tutti ragazzi, oggi vi presenterò un nuovo video che si chiamerà Pack of the Week che vuol dire che ogni 7 giorni avrò un pacchetto da 7500 crediti sperando che vada bene Allora, andiamo al negozio Allora, dove c'è il Sharawi? Eccolo qui, dai ci siamo Allora, chi è questo? Silvio Mamma mia, che schifo, che schifo Va bene, allora Niente di che abbiamo trovato Tutto bene Ok, signo tutto automaticamente Va bene ragazzi, ci sentiamo al prossimo episodio Alla prossima, ciao ciao